Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a nome della redazione internazionale e vi ringrazio di essere venuti qui così numerosi. Siamo qui per parlare di Africa e lo faremo attraverso le nuove voci della cultura africana. Abbiamo tantissimi ospiti come vedete e ve li presento brevemente. Abbiamo Gidea Debaio Begun, scrittore, poeta e drammaturgo nigeriano, sempre dalla Nigeria, lo scrittore Igoni Barrett e lo scrittore Ioma Wanchukwu. Inoltre abbiamo l'artista svedese keniana Katrin Aniango, il fotografo e artista ivoriano Paul Sika, lo scrittore keniano Billy Kaora e sempre dal Kenya la scrittrice che stiamo attendendo, speriamo arrivi al più presto Yvonne Owor e infine lo scrittore keniano Binyavanga Wainaina. Siamo molto felici di averli tutti qui perché sono gli stessi autori che hanno collaborato con noi e che abbiamo pubblicato sul libro speciale delle storie, sul numero speciale delle storie uscito a Natale dello scorso anno e quindi diciamo le abbiamo in principio raccolti in un numero di internazionale e ora abbiamo il piacere di conoscerli e di sentirli qui dal vivo. Modera per noi la giornalista e scrittrice Italo Somala, Ija Bascego. Ora vi lascio, vi auguro buon ascolto e vi annuncio già che avrete modo di ascoltarli abbastanza a lungo per un'oretta e mezza almeno visto che sono tanti e poi ci sarà uno spazio anche per delle brevi domande. Grazie mille, buon ascolto. Buonasera a tutti, sono molto contenta di vedervi così numerosi in un contro che appunto parlerà di Africa. Io vi confesso sono molto emozionata di essere qui con artisti di questo livello, dal continente che è la patria anche dei miei genitori, quindi capite anche la grande emozione. Però ecco, quando si parla di Africa in Italia si pensa sempre che è un paese. Io vorrei dirvi, voi lo sapete certamente, non è un paese ma è un continente, però purtroppo per i nostri media, soprattutto in Italia, però parlerei anche di media occidentali, questo sfugge, sfugge assolutamente, tanto che ultimamente un quotidiano italiano mainstream ha deciso di trasferire tutto quello che riguarda il continente africano dagli esteri a mondo solidale. C'è una rubrica che si chiama mondo solidale e tutto quello che riguarda l'Africa va qui. E quindi io vorrei cominciare proprio questo panel leggendo una lettera che un'antropologa calabrese, Giussi Musso Pappa, ha scritto al direttore di questo giornale. L'ho trovata molto molto in tema con quello di cui discuteremo qui. Gentile direttore, sono un po' perplessa della scelta fatta nella versione online del suo quotidiano di espellere le vicende del continente africano dalla sezione esteri e relegarle a quella mondo solidale. Naturalmente non quando si tratta di Libia o di primavera arabe, ma il Nord Africa in qualche modo è già da tempo considerato non Africa. Parlo dell'Africa subsahariana, quell'immenso continente dove accadono fatti, non solo guerre, badate bene, né catastrofi o genocidi, di rilevanza spesso mondiale che fatico a inquadrare nella categoria di mondo solidale, che istintivamente rimanda a questioni legate alla cooperazione, agli aiuti umanitari, alla solidarietà, ma non a questioni relative invece alla geopolitica, all'economia, alla finanza. In questo momento i primi due articoli della suddetta rubrica parlano di Sud Sudan e di Somalia. Certo, il focus sono i conflitti nei due paesi, ma parlandone in una rubrica che si occupa al tempo stesso di cooperazione, assistenza e volontariato, l'impressione che se ne ricava è che l'approccio alla gestione e all'eventuale soluzione a queste vicende può essere soltanto umanitario. Ci sono dei conflitti in atto, si mobilita la Croce Rossa o le ONG, e non una parola sulle questioni politiche, su cosa determini questi conflitti, sulle posizioni della comunità internazionale a riguardo, su negoziati o contatti diplomatici in corso. Si parla solo di assistenza post-catastrofe. Un quotidiano come il vostro dovrebbe fare più attenzione a questi aspetti. Nei grandi quotidiani internazionali, internazionale ce lo dice bene, le pagine esteri includono tutto il mondo, e quando si parla di assistenza o cooperazione, lo si fa allo stesso modo che si tratti di Fukushima o di Mogadiscio. L'Africa, caso mai non ve ne siete accorti, non è una terra incognita dove succedono disastri e chissà come continua a non sparire dalla faccia della terra. È un continente afflitto, sicuramente da tanti problemi, molti dei quali dovrebbero interpellarci da vicino, e penso al caso Somalo, ma anche assolutamente dinamico, diversificato e soprattutto presente sullo scacchiere geopolitico mondiale. Non accorgersene o ignorarlo significa perpetuare un modo miope, provinciale e nordcentrico di fare informazione. Quindi questa lettera in qualche modo ci introduce a questo panel. Io vi presenterò poi mano a mano i nostri graditi ospiti. Vorrei cominciare facendo una domanda a Binyavanga Wanaina. Prima ve lo voglio presentare uno scrittore e giornalista keniano, molto bravo, voi lo conoscete sicuramente grazie alla sua penna quasi satirica, quasi anche crudele con i nostri stereotipi che abbiamo in testa. Lui collabora con il Guardian e con il sudafricano Mail and Guardian, ed è anche il fondatore di una rivista letteraria panafricana, oserei dire, che si chiama Quani. Quani io lo tradurrei in italiano come Embe, allora qualcosa del genere, no? E Quani in qualche modo intercetta le menti più geniali del continente a livello letterario. Ecco, nell'editoriale pubblicato su questo numero speciale sull'Africa internazionale, Binyavanga dice «Le forze del bene sono vive e vegete, stanno affrontando quelle del male, usciranno più forti dalla battaglia. Nelle ogni presente narrazione della miseria dell'Africa, gli occidentali parlano troppo poco di quanto le nostre lotte ci hanno reso più forti». Ecco, io vorrei chiedere a Binyavanga Wanaina quando è nato Quani e che idea c'era dietro questa rivista? Sei riuscito davvero a attirare le menti del continente? Soprattutto oggi, che sono passati uno svariato numero di anni dalla nascita di Quani, sei deluso, sei contento, qualcosa è cambiato, quali saranno le sfide del futuro di Quani? Non si sente quello che dice, vorrei esprimere la mia solidarietà, non si sente quello che dice, scusate se non sta parlando nel micro, grazie tante l'interno del riguardo, vorrei esprimere la mia solidarietà per gli africani che vivono in Libia e Nord Africa, ovviamente hanno fatto parte della Primavera Araba, che è stata una cosa meravigliosa, e anche la politica assurda che c'è in Italia e in Europa, folle diciamo. Per quel che riguarda la lettera che ho appena letto, in realtà noi veniamo trattati in questo modo, con la crescita della Cina tendono a demarginare molti paesi africani e l'India, questo avviene nel mondo culturale, nel mondo economico, non so che i cinesi siano più saggi, però noi riusciamo a parlarci, cosa che non riusciamo a fare con gli europei. Purtroppo dovete considerare questo fatto, ma ci siamo allontanati da voi, ci siamo avvicinati alla Cina. Per quel che riguarda Quani, ecco, c'è un collega Billy seduto lì, è una persona eccezionale, un ottimo scrittore. Comunque, che cos'è Quani? A parte essere una rivista, eccetera, Quani è un lavoro su internet, io ho fatto parte di una piccola rete di persone che stanno cercando di produrre dei lavori eccezionali, questo già dall'inizio del secolo, e tutte le persone qui presenti hanno fatto parte di questa rete di generazione giovane, di persone abituate a Twitter, a Facebook, che producono un lavoro eccezionale che non è al di sotto di nessun altro al mondo, si sono impegnati in questioni molto importanti in tutto il continente. Quani ha sempre promosso questo, e fin dall'inizio abbiamo pubblicato questo, e continueremo a pubblicare, per cui ci sono tante altre pubblicazioni analoghe di cui sentiremo parlare nel corso di questa sessione. Poi io vorrei aggiungere anche che Minya Vanga Wanaina ha appena pubblicato questo libro, Oddio, One day I will write about this place. Spero che verrà anche tradotto presto in italiano. Ti faccio una domanda al volo su questo libro. Come mai hai scelto la forma del memoir? Perché è una storia di vita, la tua storia. Come mai hai sentito questa esigenza? Volevo scrivere al presente. Inizialmente doveva essere una specie di libro di viaggi, poi ho pensato invece di avere uno stile più intimo, e volevo parlare della nostra generazione, in un certo senso. Io ho 40 anni, e ho terminato il liceo nel momento in cui è crollato il muro di Berlino. e noi siamo i figli del crollo della classe media in Africa negli anni 90, il crollo della Somalia. Ecco, è questo che noi siamo. E volevo scrivere anche qualcosa sulla classe media, le persone che hanno fatto parte della costruzione dei progetti che prendiamo seriamente. Contemporaneamente, volevo condividere questi pensieri con il mondo, giocare con le lingue, parlare degli inizi, di quando si diventa uno scrittore. E volevo chiaramente assumermi responsabilità anche per la lingua inglese, in qualche modo. Adesso vorrei chiedere una domanda a Billy Kaora. Grazie. Vi presento un attimo. Billy Kaora è il managing editor della rivista Anquani, anche lui è uno scrittore giornalista, e anche ha viaggiato molto in Africa, ha vissuto otto anni in Sudafrica, e quindi l'Africa la conosce da vicino, non soltanto il suo paese di origine, poi con Anquani in qualche modo questa conoscenza si è aumentata esponenzialmente. Ecco, volevo ricordare di Billy Kaora le due opere, The True Story of David Mugnacki e lo script del film Soul Boy. Quindi voi dovete sapere che tutti i nostri amici qui sono dei personaggi alla Leonardo da Vinci, fanno tutti tante cose, dunque veramente è incredibile quante cose si possono fare nel continente. Ecco, a Billy vorrei fare una domanda un po' letteraria. Io volevo sapere se la scrittura per te era un fatto privato o più una scrittura sociale, e se effettivamente lo scrittore africano è libero di scrivere quello che vuole. Ti faccio questa domanda e ti faccio anche una piccola premessa. Io ero andata recentemente a un convegno a Stoccolma, dove c'era uno scrittore maliano, vestito anche molto in abiti tradizionali, che a un certo punto in un panel come questo si è alzata e ha detto io ho un'aspirazione, vorrei scrivere le cronache di Narnia. E tutti si sono messi a ridere. In realtà, poi lui l'ha spiegato bene, ha detto che i folletti, gli elfi, i gnomi, i nani, quello che vediamo nel Signore degli Anelli, o in Narnia appunto, sono riserva dei bianchi. A Neri non è permesso scrivere fantascienza, fantasy o anche recentemente gialli, in qualche modo. Il mercato editoriale ci permette, diceva il ragazzo e lo scrittore, di scrivere di altro, di guerre, di colonialismo. Allora mi chiedo, c'è vera libertà per uno scrittore africano oggi? Il mercato lo permette? Grazie, grazie per la sua domanda. Quando parliamo del mercato, un commento da un regista del Burkina Faso, mi viene a mente quando ha detto il mio mercato è in altri paesi, ma il mio pubblico è locale. Se andiamo a vedere queste opere, in effetti ci concentriamo in particolare sul pubblico locale, il pubblico del posto, e ci concentriamo su questi pubblici cercando di creare dei contenuti che siano vicini al luogo da cui proveniamo. Contemporaneamente prendiamo in considerazione molte realtà del mercato, perché come tutti i scrittori volete che il vostro lavoro poi sia recepito. e la risposta è anche nell'aspetto tecnico. Come scrittore, quello che riscontro è come scriviamo in un luogo che non ha così tante sfide. Noi proveniamo da una storia che sia coloniale ed è enormemente influenzata dall'Occidente. E questa è la grande sfida, quella di trovare la propria voce come scrittore. Un altro aspetto. Veniamo, proveniamo, già il precedente relatore lo ha detto, certi tipi di nazionalismo, di istruzione, certi tipi di atteggiamenti. Allora, come troviamo la nostra voce? Tutte queste cose sono poi menzionate nel contenuto. E poi è importante in qualche modo far riferimento al contesto ma anche trovare una voce individuale, originale, che possa mettere in discussione certi stereotipi. e questa è proprio la bellezza e la sfida che dobbiamo affrontare. Se troviamo una risposta a queste domande che sono di natura tecnica, ritorniamo a qualcosa di universale. Qual è davvero una buona storia? La storia, non so, ricordo la storia che ho scritto due anni fa, che utilizzava un gorilla come personaggio centrale. Non ci sono gorilla in Kenya, in realtà. per me si trattava di come raccontare una storia che potesse in qualche modo essere ben recepita dalle persone. Ci sono degli elementi fantastici, questi elementi che non sono basati sulla realtà, sul realismo, però mostrano alcune condizioni che sono assurde e sono descritte nella storia. la prossima domanda è per Lugide Adebayo Begun. Lugide è uno scrittore nigeriano e anche lui fa mille cose, tra cui l'agricoltore, ho scoperto, magari poi ci darà anche delle dritte su questo. È insegnante, copywriter e naturalmente scrittore. su Internazionale è uscito questo bellissimo racconto che parla di una relazione amicale ma anche un po' complicata tra un ragazzo che sogna di diventare un iman e un insegnante più grande di dieci anni che in realtà è innamorato di lui. Quindi io volevo chiederti come mai hai scelto questi due temi comunque controversi che sono appunto quasi il problema del non chiamerei problema direi più che altro il conflitto religioso che c'è in Nigeria attraverso appunto questo personaggio di questo ragazzo e comunque l'omosessualità che è un tema poco affrontato in generale nelle letterature del sud del mondo. Quindi come mai hai scelto questo tema e come vorresti affrontarlo magari in futuro? Grazie. grazie ho deciso di utilizzare questi argomenti innanzitutto perché secondo me questi erano gli argomenti interessanti per me ci sono tre argomenti la religione il sesso e il cuore forse John Upgaddyk aveva detto questo per me la religione definisce tantissime cose in Nigeria definisce tante cose tanti modi di pensare mi interessa tanto la dinamica che c'è alla base di tutto questo come la fede personale di un individuo possa davvero creare una dinamica altra cioè la religione è molto privata da una parte ma anche molto pubblica dall'altra e crea delle tensioni anche per cui volevo utilizzare il mezzo narrativo per sfruttare questo testare le possibilità che mi offriva un rapporto fra due persone così diverse e come questo si sviluppava per cui per me è sempre interessante la religione il sesso e l'arte io spero di essere riuscito a spiegarlo chi ha letto questo racconto in Nigeria o anche in altri paesi africani ha avuto un buon riscontro o anche delle critiche se ci sono state delle critiche quali? Una reazione diciamo mista alcuni sono stati molto sensibili nell'Islam si pensa che ci siano degli argomenti tabù nella cultura islamica della Nigeria come l'omosessualità e quando la storia è uscita ho avuto dei feedback alcuni mi hanno fatto capire che era tabù non ne avrei dovuto parlare però questo succede sempre nel mio paese da noi ci sono tanti casi di questo tipo e secondo me molto interessanti alcuni hanno apprezzato moltissimo invece la mia scelta quando io scrivo scrivo innanzitutto per esprimere me stesso per esprimere la mia visione del mondo e quindi c'è questa spinta molto privata della creazione io vorrei cercare di dare espressione soddisfacente a quello che sento e se ci riesco sono felice poi la reazione non importa grazie E non posso parlare per tutta l'Africa. Sicuramente la letteratura può aiutare perché gli scrittori sono interessati, parliamo della narrativa, è questa che conosco meglio, gli scrittori sono interessati magari a certi luoghi e quindi a conoscere l'atmosfera di certi luoghi. Per riprodurre un luogo nella narrativa dovete conoscere bene quel luogo, dovete conoscere le peculiarità di quel luogo e trasmetterle in maniera tale che si possa avere un'idea di quel posto. Per conoscere il Kenya bisogna leggere un buon scrittore keniano e se si legge ad esempio Kenya Vanga, specialmente il suo memoir, si conosceranno delle parti del Kenya negli anni 60, 70, 80. Per quanto riguarda la narrativa, si aiuta a conoscere bene i luoghi e bisogna scegliere gli scrittori da leggere per conoscere bene i propri luoghi. E quale letteratura? Cosa cerca di fare la letteratura? Chiaramente scrive storie che riguardano delle persone, dei personaggi, è questo che fa la letteratura. Ad esempio quando guardiamo la televisione riceviamo delle immagini dell'Africa che danno un'impressione dell'Africa. Si ricevono delle immagini del Sudan, della Somalia, ma in Somalia e in Sudan vi sono altri aspetti che non arrivano in televisione e se si è interessati in quegli aspetti, in tutti i tipi di storie, è importante leggere. La letteratura ci dà quindi prospettive diverse su quei luoghi ed è quello che ci interessa, conoscere bene l'Africa. Io in questo momento vorrei fare una piccola nota di servizio ai tecnici perché dobbiamo proiettare le immagini di Katrin Gnango. Perché intanto che i punti tecnici si preparano vi presento Katrin. Katrin è kenyata svedese, vive a Londra e praticamente anche lei è un Leonardo da Vinci, in un certo senso, è illustratrice, filmmaker, fumettista, art director, insegna alla Royal College of Art. Ho scoperto che è un'esperta anche di Philip Dick e si è confrontata con un testo molto complicato, soprattutto per chi ha origini nel continente, che Cuore di Tenebra di Corrad ha fatto una datazione e ha pubblicato questa graphic novel su Cuore di Tenebra. Io a Katrin ho tantissime domande da chiedere, però una di queste è sicuramente come ha affrontato questo testo dove comunque, come diceva Tiongo, gli africani erano quasi dei fantasmi o appunto venivano presentati quando dovevano divorare dei nemici. E' un po' un testo problematico come anche la tempesta di Shakespeare. Come l'ha affrontato e che narrazione ha voluto dare di questo Cuore di Tenebra? Insomma, com'è stato questo viaggio? Ma non si vede niente comunque. Grazie, dovremmo aspettare che compaiano le immagini? Non l'ho avvicinato nel modo in cui molti si aspettavano, non in maniera africana per così dire. Per me Cuore di Tenebra è un testo veramente bellissimo ed ero veramente interessata a realizzare un libro che utilizzasse le metafore visive per sottolineare quelle che secondo me erano le tematiche corradiane. La prima immagine che mi ha risucchiato fin dall'inizio, lui è su una barca e ci racconta la storia e c'è un faro che si accede e si spegne. La sua faccia prima è illuminata e poi è al buio. Poi ci sono queste mosche che si addensano intorno alla luce, in Congo, intorno a una lampadina, in minura tale da non lasciare passare la luce. Purtroppo non si vede, mi sembra l'immagine. Quindi queste sono state le immagini che avevo in testa, quindi la luce e l'ombra, l'intimità di questa metafora, non solo una cosa che succede in Congo oppure in Inghilterra, ma un qualche cosa che succede dovunque. Forse questo è un aspetto un po' critico del libro, ma io penso che sia un'idea di luce e ombra universale. L'autore dice che tutti possono essere cattivi e molto umani al tempo stesso, quindi nell'avvicinare i congolesi agli occidentali si riesce a raggiungere una rappresentazione molto più onesta del suo pensiero. Attualmente c'è sempre molta retorica sulla comunicazione di come dovremmo integrare gli africani in occidente, come avvicinare i due mondi. Se ne parla tantissimo. Può darsi che anche oggi stiamo facendo un tentativo di questo tipo. Comunque quello che faceva Conrad era di realizzare un appello molto onesto all'uguaglianza, mentre tutti sullo stesso piano in questo modo offendeva qualcuno, perché, e questo cito il libro ovviamente, il sospetto che i congolesi non fossero umani lo colpiva veramente. Ma affronta questo argomento per la prima volta in maniera aperta, quindi era attratto nei confronti di qualcosa che non conosceva e questo è un atteggiamento che permette un avvicinamento. Io non so ovviamente quanto sapete della politica inglese in Italia, ma David Cameron usa un'espressione tale che dice che abbiamo dei bambini problematiche. Hague Hoodie vuol dire una cosa proprio dispregiativa, anche se lui ci prova. E questo tipo di onestà può trovare posto anche qui, cercando di rendere più fruibile anche visivamente un libro così bello. Grazie. Iehoma Wanchuku è un giovane promettente scrittore nigeriano e se troverete appunto questo numero di internazionale, se l'avete letto, insomma, lui è aperto, praticamente apre questo numero speciale con un racconto che si intitola The Good Dothor. Ed è un racconto bellissimo perché lui si è messo nei panni di una giovane donna, siamo appunto quasi subito dopo la guerra del Biafra, una giovane donna che ha un passato difficile, cioè era stata venduta come schiava dalla sua famiglia. Nonostante parli di un argomento così difficile, e noi sappiamo di questa storia dopo, attraverso lei che deve in qualche modo confessare questo passato al marito, nonostante il tema sia difficile in qualche modo o possa sembrare stereotipato, in realtà non lo è, perché la penna di Iehoma Wanchuku è incredibile, però è anche che c'è molta forza nei personaggi, molto calore. E quindi io la domanda che ti vorrei fare è proprio questa, come hai fatto a vestire così bene i panni di una donna, un po' come Flaubert con Madame Bovary, quando diceva Bovary c'est moi, ma anche come possono le donne oggi in Africa cavalcare questa ondata, questo nuovo inizio di cui parlava appunto Binyavanga Wanaina. Grazie, grazie per questa domanda. Fondamentalmente io quando scrivo io mi vedo come uno scrittore di carattere, per così dire, di personaggi, io divento il personaggio quando scrivo, è come se volessi scrivere davanti a uno specchio e immedesimarmi, scrivo in diverse fasi, fondamentalmente quando cammino per strada guardo la gente, ci rifletto e continuo a creare. E questo è stato possibile per me, in questo modo, non è diventato, è un processo che non finisce mai, non c'è una formula precisa, ovviamente scrivere è sempre un percorso sconosciuto, si sa quando si comincia e non si sa che cosa si riesce a creare, dove si arriverà, è stato un viaggio, è stato difficile, però l'ho fatto passo passo gradualmente ed è una storia che era anche personale, se vogliamo, ero interessato personalmente a questa storia, era una storia che volevo e sentivo il bisogno di raccontare ed è così che l'ho fatto. Grazie, poi torneremo anche un po' su, facciamo un ultimo giro e concludo il giro con Polsica, noi comunque siamo sempre in attesa di Yvonne che è arrivata, è fantastico, just in time, benvenuta Yvonne, e quindi non concludo il giro ancora, quindi c'è Polsica, Polsica, qui avverto anche i tecnici perché dobbiamo proiettare altre immagini, Polsica è un fotografo della costa d'Avorio ed è un fotografo incredibile, fa delle foto psichedeliche, poi le vedrete, piene di colori, piene di vitalità, di energia, di immagini insomma, e la cosa, io l'ho trovata divertente, un po' anche buffa, è stato ispirato dal trailer di Matrix, ne abbiamo parlato in questi giorni, insomma Matrix è un film che ha segnato molte, molte persone, e le sue opere appunto si integrano anche molto bene in vari campi, dai videogiochi al mondo della moda. C'è molto lavoro nelle tue foto, Pol, cioè tu lavori con gli attori, fotografi attori, ma fai un doppio lavoro, no? Cioè lavori sia nel momento dello scatto, sia nella post-produzione, quindi io ti chiederei proprio come lavori con queste foto, e soprattutto dopo che tipologia di Africa esce fuori da quello che scatti, e che crei. Me la ripeto l'ultima domanda? La tipologia, che Africa esce fuori dalle tue foto, insomma? Vorrei rispondere a questa domanda in tre fasi. Allora, le prime due fasi mi costringono a tornare un po' a quello che è stato detto già da questo panel. Allora, la prima cosa, anche se è un errore oggi dire che l'Africa non è un paese, credo che davvero vorrei che l'Africa fosse un paese. E mi piacerebbe che fosse una donna, la Presidente degli Stati Uniti d'Africa. Sarebbe la riprova di un certo tipo di evoluzione, che credo sia necessaria. La seconda cosa, la seconda fase che vorrei affrontare, è quando chiedete se uno scrittore africano ha libertà oggi, direi di sì e di no, contemporaneamente direi di no se volete capire quello che già esiste. Perché non è soltanto il settore editoriale, ma tutte le cose sono ideate, progettate in un certo modo. Non possiamo avere lo stesso output con lo stesso input, sempre allo stesso modo. Quindi io direi che, per rispondere alla sua domanda, posso rispondere in un altro modo. Vorrei rispondere con un mio esempio personale, cioè ricercare ciò in cui davvero crediamo. Ad esempio, ho contattato un editore dicendo che volevo pubblicare le mie foto. Questo editore mi ha detto di no. Ma mentre lo facevo, cercavo dei modi alternativi per pubblicare il mio lavoro, le mie opere. E ho fatto proprio questo. E queste opere sono state scelte dalla CNN. E qualcuna la CNN mi ha visto e ho ricevuto un'email dall'editore dicendo vogliamo pubblicare il tuo lavoro, le tue foto. E quindi, se c'è libertà sì o no, ebbene, vi è un tipo di libertà che esiste ora, che è quella di agire nella direzione di ciò che davvero vogliamo ottenere, ciò in cui crediamo. La terza fase della mia risposta è replicare direttamente a ciò che lei mi ha chiesto. Allora, che tipo di Africa ritraggo? Il tipo di Africa che voglio vedere è un'Africa che sia unita. un'Africa che vada al di là dei confini, un'Africa che comprenda qual è lo scopo della fisicità di ciò che noi chiamiamo Africa. un'Africa che comprenda che, in un certo senso, vi sono tante Afriche, quante sono le persone che percepiscono quella cosa che chiamiamo Africa. Io ho cercato molte cose nella mia vita, avevo delle ambizioni, ma mentre crescevo mi interessavo sempre di più ciò che era essenziale, all'essenza delle cose, qual è quella cosa di base che io potevo fare. Mi sono reso conto che questo riguardava raggiungere la perfezione, la perfezione nella materia, ma anche nell'anima, perché le cose materiali cambiano, noi cambiamo eternamente, ma l'universo dei valori, l'universo dei valori rimane sempre lì, rimane invariato, e quindi anche dopo tanti anni resterà intatto, invariato. Allora, in questa ricerca, della cosa più grande, migliore che io posso realizzare, perché credo che sia possibile, ed è chiara nella mia mente, ecco, credo che l'Africa sia diventata un contesto, un punto di partenza, in un viaggio, per raggiungere la fase finale dell'evoluzione. E' questo il modo in cui io vedo l'Africa. Non vedo l'Africa come buona o cattiva, se dovessi descriverla in questi termini, direi che sia buona che cattiva, contemporaneamente dobbiamo trovare un modo per definire che cos'è. Allora, che cos'è l'Africa? E' il contesto, il contesto in cui viviamo, dove le persone fanno le loro cose, il contesto, ma è anche il sogno dell'Africa, il sogno africano. E' anche il sogno africano? Può essere discusso a varie fasi, a vari livelli, ma quello che mi interessa davvero, quello che osservo, è quello della perfezione, dove sarò libero da ogni confine, che mi può essere stato insegnato, ci è stato insegnato a vivere all'interno di questi confini, ci è stato insegnato a respirare all'interno di questi confini, ma questo è liberarsi dai confini per avere un'evoluzione dell'Africa di cui sogniamo. Grazie Paul per le tue parole, però ti volevo anche dire che ti consiglio, consiglio anche a voi un bel romanzo di un nostro amico che si intitola proprio «L'età sunni d'Afric, gli Stati Uniti d'Africa» di Waabere, quindi forse il sogno potrebbe diventare un giorno realtà, chissà, io me lo auguro, insomma. Invece, Yvonne, benvenuta, grazie di essere qui, di avercela fatta, stare con noi, ti volevo presentarvela, è una grandissima scrittrice, è del Kenyana, il suo racconto, Weight of Whisper, ha vinto il King Prize for African Writing, e diciamo che una delle caratteristiche di Yvonne è proprio quella di lavorare sullo stile, sulla parola, sulla lingua, cioè è una grande scultrice della lingua e io proprio quello che ti volevo chiedere era sull'annosa questione, la chiamo l'annosa questione della lingua in Africa, perché molto spesso si dice dobbiamo tornare a scrivere nelle lingue del continente però come diceva come diceva Chinue Achebe qualsiasi lingua usata dagli africani è una lingua africana, quindi io mi chiedevo se deve scrivere solo in inglese o c'è possibilità di mercato anche per le lingue minori e se tu hai mai pensato di scrivere anche in Swahili o in un'altra lingua del Kenya? grazie, grazie davvero mi scuso per essere arrivata in ritardo la risposta è no scrivo nella lingua in cui sogno e l'inglese che utilizzo è l'inglese che ho fatto mio rifiuto la nozione dei limiti del linguaggio io penso che la lingua sia una cosa promiscua trova il suo posto ricerca la propria identità e una propria personalità a seconda del contesto in cui si trova per cui scrivo in una lingua che sento ultimamente il Kenya è stato al centro anche di diciamo non direi guerra ma direi di conflitti interni identitari ci sono tante identità è un paese sicuramente multiculturale e come voi scrittori in Kenya riuscite a integrare nelle vostre nei vostri scritti questa multiculturalità del paese e se questa multiculturalità è legata solo ai conflitti o invece come io credo sia legata anche a una ricchezza del paese è molto interessante questa domanda perché la situazione in cui ci troviamo vale la pena di essere esplorata è come un crogiuolo di diverse identità in cui ci troviamo la molteplicità delle identità questa multiculturalità può essere quasi schizofrenica che cosa posso dire? come posso rispondere? forse devo chiedere a Binia Vanga di rispondere al posto mio ci troviamo in uno stato di fermento positivo e io ho questa sensazione come che stia per nascere qualcosa ci troviamo in un paese in cui stiamo cercando quel qualcosa che è il Kenya che è fatto di questa molteplicità di persone di culture una molteplicità di sé e quindi non è necessariamente una cosa negativa questa tensione che dà origine a un qualcosa di nuovo di fresco un modo diverso di guardare le cose o forse un altro modo anche di capire chi siamo noi dall'interno faccio una domanda un po' sia a Binia Vanga o a Naina sia a Billy Kaora e anche a te Yvonne perché io mi chiedo sempre me lo chiedo a me stessa che sono la scrittrice come si riesce a scrivere in un mondo dominato e pervaso dal rapporto con la cultura dell'Occidente lo stile della scrittura può aiutare o il contenuto stesso della scrittura vi chiedo questo perché mi ricordo di un vecchio racconto di Tony Morrison che si intitolava Resistative e dove parla appunto di due bambine e fino alla fine nessuno sa quale sia la bambina nera e la bambina bianca Tony Morrison non usa dei codici identificativi non dice la bambina nera va al cinema la bambina bianca va alla latteria ma non usa i codici allora quindi come si fa a scrivere in un mondo che è pervaso comunque di cultura occidentale e a cui volenti o nolenti noi comunque sottostiamo nel bene e nel male ci siamo dentro chi vuole cominciare Billy Bignavanga io sono nato in un mondo imbevuto di cultura occidentale anche mio padre anche suo padre sua madre quindi e non sono molto contento di questa situazione e chissà spero che un giorno staremo tutti in un bel mondo imbevuto della nostra della mia cultura forse arriverà quel giorno e quindi penso che ci sono delle questioni relative all'essere uno scrittore africano un africano che è nato in un paese che è stato un ex colonia come il Kenya e poi la questione della lingua io sento per esempio che in un paese che si chiama Kenya così com'è non riusciremo ad ottenere una piena espressione fino a che non riusciamo a produrre tutte le forme d'arte scritti lavori economici film per rappresentare le nostre idee ci sono tante culture tante lingue alcune delle quali fra le più vecchie del mondo quindi ci sono tante diverse entità culturali che si esprimono all'interno dello stesso mondo non scompariranno mai non ci sarà imperialismo che possa mai spazzare via tutto questo è una caratteristica dell'Africa che non si conosce è un posto che non si può conquistare può essere stato colonizzato ma non può essere conquistato e vinto non c'è lingua che abbia prevalso ci sono tutti stati tutti anche francesi italiani eccetera comunque tutto questo ha lasciato un'impronta molto limitata su tanti aspetti e questo l'Africa sulla base di quello che è successo negli ultimi 3 o 4 anni penso che sia sempre più chiaro a tutti che la stagione del capitalismo di mercato alla stazione del dopoguerra l'euro nato eccetera ormai è finita e siamo alla ricerca di una nuova stagione per me sicuramente che ce ne rendiamo conto o no man mano che con la nostra generazione invecchia ci rendiamo conto che questo è il mondo che avremmo conosciuto questo è anche quello che attrae la nostra fantasia ma ci sono tante persone con cui vogliamo parlare vogliamo parlare al mondo con gli strumenti che conosciamo io penso che lo scrivere il romanzo non possa avere una grande avere una grossa vita ancora chissà i podcast è tutto quello che verrà dico questo che non c'è una vanità un'eccessiva importanza attribuita a se stessi attraverso la scrittura che è al centro di cosa oppure sta tutto scomparendo ecco più o meno è questo che voglio dirvi tornando alla questione del Kenya come paese di identità multiculturali possiamo dire molte cose per quanto riguarda il Kenya l'esistenza negli ultimi 47-48 anni del Kenya è sfruttare delle risorse che sono state messe a disposizione dalle gemmi politici questo crea una specie di spinta nei sentimenti delle persone che non è possibile sempre avere la realtà però va al di là la realtà è al di là sia dell'aspetto politico che di quello economico le persone che crescono in aree urbane non sono così tanto consapevoli che vi sono tanti gruppi etnici gruppi culturali in uno spazio politico ed economico ci sono moltissime persone che sono cresciute all'interno delle tribù che sono imbevute di cultura occidentale e anche di come si vive negli spazi urbani quindi non è una difficoltà quello che cerco di esprimere non è una difficoltà una volta che non so se le persone vanno in banca si rendono conto che in effetti non c'è nulla di difficile nel banco ma semplicemente si impara a utilizzarlo bisogna soltanto pensare appunto che le persone che provengono dall'America chiaramente sono meno esposte a queste problematiche se andate in altri paesi alcune persone vedrete sono più africane di voi il problema è nelle linee di demarcazione sia dal punto di vista politico che economico e dagli interessi economici e forse un'altra cosa da aggiungere che cosa significa tutto questo per uno scrittore sto citando dal libro di Binia Vanga quando immagina un uomo da 6 milioni di dollari questo non ha nulla a che fare con gli Stati Uniti questo milionario è un personaggio americano che è molto reale e quindi quest'uomo da 6 milioni di dollari è lì esiste ma è via questa ipotesi che queste cose sono estranee a noi che sono differenti da noi magari semplicemente non abitano vicino a noi sembrano lontani ma sono solo a livello geografico il problema è che pensiamo che vi siano delle separazioni che queste cose sono separate ma non lo sono volevo riprendere questo argomento credo fermamente che la cultura può creare delle divisioni se portiamo questa tesi all'estremo e apriamo i nostri confuni celebriamo l'omogeneità allora invece di celebrare la differenza il mondo troverà sicuramente dei nazionalismi e chissà cosa accadrà dopo forse è arrivato il momento di smettere di guardare all'interno della storia di certi luoghi cercando la nostra identità personalmente io sono mezza svedese e mezza kenyota ma non mi sento né africana né svedese mi piace essere me stessa non penso che il mio lavoro debba affrontare un lato o l'altro vorrei vedere un esperimento dove abbandoniamo il modo in cui ci sentiamo i nostri sentimenti rispetto alla storia e semplicemente facciamo sì che il mondo sia uno una domanda a Binia Vanga stai dicendo che non saremmo influenzati dalla cultura cinese io credo credo che chiaramente non abbiamo né scelto il luogo né il momento in cui siamo nati e chiaramente abbiamo una responsabilità rispetto al periodo in cui viviamo ma al di là dei limiti al di là delle demarcazioni che sono state menzionate e credo onestamente che l'influenza sono le forze della vita in cui io mi ritrovo come essere umano e dovendo interagire dovendo negoziare con queste forze dovendo parlare con queste interpretare i luoghi in cui io mi ritrovo e le relazioni che devo che incontrerò che avrò con queste forze che si tratti dell'influenza occidentale o dell'influenza cinese non so quale tipo di influenza sarà e divento sicuramente questo crocicchio questo punto centrale dove dobbiamo interpretare la situazione che viviamo io sono cresciuta con questo senso che il mondo è mio e sono stata scioccata a 23 anni di rendermi conto che il mondo non mi stava aspettando nel modo in cui io mi attendevo e vivo ancora con quell'illusione e così scrivo scrivo in questa condizione non credo che cambierò personalmente non cambierò questo mio approccio la Nigeria sapete è un grandissimo paese con grandissime risorse però purtroppo a volte non si riescono a sfruttare le risorse che hai dentro per tutte le multinazionali che in qualche modo affamano il paese però appunto è uno dei paesi che ha dato la letteratura credo dei grandissimi artisti pensiamo a Shouinka o a Ken Sorouiva però ho notato che in Nigeria c'è un dibattito che è molto italiano cioè molti nigeriani decidono di andare all'estero per avere delle opportunità in più quello che un po' succede anche qui i giovani in Italia non hanno opportunità in Italia e quindi vanno a cercare fortuna all'estero Parigi New York Berlino eccetera sono pienissime di italiani io ho ritrovato un testo appunto di Goni Barrett dove ha denunciato questa fuga dei cervelli e allora mi chiedevo perché in Italia ce lo chiediamo in molti quali sono i motivi per restare o per andare via dall'Italia allora vi volevo chiedere sia ai Goni Barrett sia a Olujide e sia a Eoma se ci sono motivi per restare quali sono i motivi per andare chi vuole cominciare sono motivi molto personali non possiamo dire a nessuno di stare o di andare io ho preso la decisione personale di rimanere in parte perché in Nigeria a scuola all'elementare per esempio abbiamo un sistema in cui c'è il maestro e poi viene eletto il capoclasse e questo capoclasse deve supervisionare diciamo i compagni quando il maestro se ne va quindi è un rapporto diretto con gli altri ragazzi e si dice che quando il capoclasse è stupido non importa se gli altri sono intelligenti si finisce tutti per essere stupidi contestualizziamo questo a livello nazionale cioè quando i leader sono stupidi diventiamo stupidi pure noi e questo lo diciamo a tutti i livelli è anche colpa nostra e a un certo punto bisogna prendere la decisione di rimanere perché io per esempio sono stato anche all'estero avrei potuto anche diventare italiano americano io posso non sono neanche giamaicano anche se mio padre è giamaicano io capisco quando parla io sono nigeriano che mi piaccia o no e quindi ho deciso di rimanere di farmi carico del mio paese del mio destino nel modo migliore possibile io sento che se abbiamo abbastanza in abbastanza persone a prendere questa decisione possiamo riappropriarci del nostro paese per aggiungere qualcosa a quello che ha detto Igoni il problema è un po' facile dare una risposta di tipo intellettuale come dire come si fa a dire una persona di rimanere in un paese o andarsene è un problema personale se ci si trova di fronte a un bivio di questo tipo e non si sa cosa decidere la cosa da fare è pensare io me ne voglio andare non mi piace stare qui è difficile accettare di rimanere in un paese quando non ti piace niente per esempio dire a una madre che ha perso il figlio di non piangere anche piangendo non serve a niente perché il figlio non ritorna però bisogna considerare che questa persona ha perso un figlio per cui la cosa più giusta da fare sarebbe smettere di piangere però si hanno tanti ricordi e quindi non si può smettere di piangere il pianto non riporta indietro la persona però si continua a piangere per cui il discorso è un po' complesso difficile io non potrei mai dire a una persona che deve rimanere come diceva Igoni ho deciso di rimanere nel paese ma se si vuole andare via fondamentalmente è una decisione tua e questo ovviamente ci riporta alla questione della leadership in Nigeria per esempio in un paese in cui ci sono delle regole che non vengono rispettate quindi c'è tanta corruzione insomma la gente vuole cercare di interpretare queste regole a modo proprio quando una persona per esempio ha una posizione di autorità ne ha un guadagno personale quindi quando si pensa che le autorità non si preoccupino della gente è difficile poi voler rimanere in un paese è quasi un'azione sadica dire come posso rimanere qui e continuare a farmi del male è difficile no? io sì certo si potrebbe dire a una persona guarda sarebbe meglio sarebbe più ragionevole rimanere a risolvere i problemi ma se quelli che stanno più in alto non si fanno carico di un paese come dovrebbero allora è difficile se le persone non si responsabilizzano anche dall'alto se la gente non può imparare da chi la governa e chi governa un paese non comincia a farsi carico di un paese è difficile chiedere alla gente poi di non andarsene ma comunque è molto una decisione personale vorrei aggiungere la cosa velocemente poi anche lui ne vorrebbe parlare vorrei aggiungere un po' di colore a questa descrizione così tetra in Nigeria c'è un sistema federale e in alcuni stati federali stanno cominciando a cambiare delle cose anche la capitale della Nigeria il governo sta diventando un po' più responsabile ai confronti dei cittadini e quindi si sente che si possono richiedere dei cambiamenti quello che ho detto è che in ultima analisi come artista è difficile poter andare avanti come scrittore si vuole produrre del lavoro e Conrad per esempio era andato in Inghilterra e io quindi non posso dire a nessuno a nessun artista a nessun professionista di non andare dove vuole ma a un certo punto per esempio ieri ho partecipato alla sessione sull'Egitto io so che arriveremo a quel punto anche noi nell'Africa subsahariana a un certo punto non ne potremo più e scenderemo in piazza per le strade vorremmo un cambiamento e questo verrà dalla gente non verrà dall'altro dai governanti a un certo punto arriveremo lì anche noi e cercheremo di avere i leader giusti a governarci e adesso ovviamente oggi è il cinquantesimo anniversario dell'indipendenza della Nigeria dovremmo addirittura festeggiare grazie grazie abbiamo avuto dieci anni di democrazia senza militari e per la prima volta in tantissimo tempo abbiamo un nuovo presidente che magari è un incompetente ma almeno ha una rottura rispetto al passato non è un ex militare per così tanto tempo abbiamo avuto dei militari al potere questo qui no quindi qualcosa di nuovo c'è forse fra 15 20 50 100 anni forse a un certo punto avremmo il tipo di Africa che vogliamo diventare se Ologide può essere un po' più breve così do anche la parola a Paul Sica e poi è il vostro turno di fare le domande perché vorrei che il pubblico vi facesse delle domande quindi se riusciamo a essere nei tempi di fare le domande and engaging but at the same time there is infrastructural deficit there is a sense of disenfranchisement from the people and the disenfranchisement is not just a question of bad leadership the people themselves they they are pathetic they have sort of willed their their sense of choice their sense of responsibility to some group of thieves to loot us to decide their fate so when the individual feels like they have the need for the people who think they have the need for the people who think they will have the need for the people who think they will they will have the right and scopriranno that some things could be done people who have abandoned their jobs and went to the east so in pratica the condition of the world that we know now is the one that we live the country is the coast of avorio but the situation is also the same for us we are not the best person to speak for the political structure of the the coast of avorio and even if we have hope we have a lot of hope of a country pacific but I believe that what we have lived a couple of months ago has brought us to understand that it is not simply a conflict arm that can solve some problems that we have to be in front of the world I believe that in terms of the coast of avorio I believe that we don't know but we don't know but we don't know but we don't know but we don't know if there is a commission that was instaurated by President of the 28th of September for the resolution of the conflict and we hope that this institution can work because the president of this institution can work to make it 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 change partiti politici e dalle motivazioni politiche. Questa è una grande opportunità per la Costa d'Avorio. Io credo di un approccio che parta dal basso, quindi dalle persone verso il capo di Stato, ma anche un approccio inverso, quindi dall'alto e questo dovrebbe condurci verso la pace. Altrimenti è semplicemente una struttura vuota il nostro Stato. Se posso riprendere una cosa che ha detto Igani per quanto riguarda il capoclasse, una cosa che possiamo vedere anche a livello nazionale, la democrazia non è un sistema che funziona ovunque e in qualunque modo, per il semplice motivo che la democrazia riguarda i numeri, la quantità, i numeri, non è mai equivalente alla qualità. Quindi la verità non è democratica. Se mille persone dicono che non c'è nessuno in questa stanza, questo non la rende una verità. Allora, per quanto mi riguarda, io preferirei avere un monarca saggio, illuminato, piuttosto che una persona eletta democraticamente che non sia saggia, perché la persona saggia può governare il paese in maniera solida, può portare dei cambiamenti. Io voglio aggiungere, perché volevo, se vuoi aggiungere una battuta molto veloce, do you want to add something? Want to tell something? Vorrei dire, nel contesto dell'idea degli africani che vanno in occidente, vorrei aggiungere una cosa. È chiaro, per chiunque può leggere qualunque informazione trasmessa, tutti i politici in Europa chiaramente trattano il problema dell'immigrazione, le vostre infrastrutture, la paranoia, è guidata da questa follia. Quindi, se c'è follia in Sarah Palin e Osama Bin Laden, è una follia dell'Europa. Ed è follia e porterà molte vittime e causerà molti problemi. Per me, la cosa importante come scrittore, è ribadire questa idea che ogni epica, come ogni società, riguarda coloro che se ne vanno. Chiaramente si cerca un rifugio e si emigra. Si viaggia per lunghe distanze e si cerca fortuna altrove. Questo succede e lo leggiamo nella storia. Quindi non è il contenimento dei problemi al confine, perché ci sono state molte missioni in questo senso, ma hanno fallito. Quindi sappiamo che possiamo esprimere solidarietà per coloro che sono morti in questo tentativo, ma le persone continueranno a migrare. Quindi io non sostengo l'idea che gli africani non debbano andare in Occidente e rimanere lì, perché questa idea è semplicemente comoda per la politica europea. Loro continueranno a venire e li fermerete, ma sicuramente ne fermate uno e un altro arriverà. Ne arriveranno molti di più. Arriveranno chiaramente via mare, nuoteranno, viaggeranno in vari modi. Persino le scimmie da cui discendiamo continuano a spostarsi, a viaggiare. Grazie a tutti voi. A questo punto tocca a voi pubblico fare qualche domanda. Abbiamo tantissimi artisti, abbiamo messo sul piatto tantissimi argomenti, quindi abbiamo credo qualcuno che vuole rompere il ghiaccio. Grazie. La mia domanda più che altro era rivolta a chiunque volesse rispondere, non a una persona precisa. Volevo chiedere cosa pensate sia meglio che venga fatto da parte nostra, dall'Occidente stesso, per aiutare voi. Se ritenete che un intervento possa aiutarvi, non intendo militare, intendo generalmente un aiuto anche umanitario, sia più efficace o rischi solamente di andare a ostacolare un processo che dovreste fare da soli. Magari raccogliamo un po' di domande e se le indirizzate è meglio, insomma. Raccogliamo due o tre domande. Vi prego domande e non interventi, così non ve l'ho detto prima. Cioè ci sono altre due domande, così le raccogliamo insieme? E magari se diretta una persona perché sono nove, insomma. Io avrei due domande molto rapide, una per Paul, perché abbiamo visto una delle sue fotografie proiettate, immagino ce ne fossero 50 altre nel computer, mi piacerebbe vedere un paio d'altre, ma soprattutto capire perché prende quel tipo di fotografie e non altre fotografie. Qual è il messaggio e qual è l'approccio che adotta invece di essere per esempio un fotografo che fa della documentaristica, eccetera. L'altra è per Binyawanga, che ha cominciato il suo primo intervento dicendo noi siamo la generazione dei quarantenni, della middle class, del Fondo Monetario Internazionale, eccetera. Vorrei sapere come vede lui il ruolo di questa generazione nella politica africana nei prossimi 10-15 anni. Perché mi sembra che ci sia un attivismo incredibile a livello di organizzazioni private, a livello di imprenditoria, c'è del software che è di qualità mondiale che c'è dall'Africa, eccetera, ma non si vede molto in politica. Quindi qual è il ruolo di questa generazione in politica nei prossimi 10-15 anni? Grazie. Credo che potete rispondere a queste tre domande. No, niente. Niente. Basta, basta. Ne abbiamo già viste a sufficienza. Dite a Sarkozy, soprattutto. Mi sembra che Sarkozy non lo sappia. No, noi ci preoccupiamo sempre quando sentiamo cose di questo tipo perché portano proprio a peggio. Non portano bene. Per quel che riguarda il secondo punto, la domanda relativamente a qual è la questione della responsabilità politica della nostra generazione, improvvisamente ci siamo trovati di fronte a questa cosa. Cioè quando le cose andavano male in Kenya, io ho chiamato mio padre e ho detto fate qualcosa, fate qualche cosa. E lui diceva, ma che cosa dici? E io dicevo, sì, devo fare qualcosa. Quello che succede è che finalmente le persone nate dopo l'indipendenza, Nigeria 50 anni, quindi noi abbiamo 40 anni, Kenya circa come noi, comunque mi sembra 50 e la questione è difficile. Comunque posso dire che se c'è stato un qualche minimo successo in questi 40-50 anni di vita di questi stati, nonostante gli alti e bassi, diciamo che è emersa una crescente intelligenza, una classe istruita nel continente nonostante la diaspora, io penso che sia un po' difficile dire che strada prenderanno questi paesi, in alcuni paesi forse andrà meglio che in altri, alcuni governi crolleranno, altri no. Comunque le cose sono cambiate molto, adesso abbiamo delle nuove forze che si stanno delineando, le alleanze dell'epoca della guerra fredda non ci sono più, sono venute a mancare, l'ascesa dell'Oriente per così dire. Mi ricordo un paio di anni fa sono andato in Germania e ho visto che c'era molto fermento e tutti i politici tedeschi che dicevano, che cosa possiamo fare insieme? E la Cina e la Cina continuavano a chiederci della Cina, che cosa ci dite della Cina? Era questa la domanda. Stanno succedendo tante cose, è un secolo a due velocità, ci saranno molte turbulenze, forze che ci trascineranno via, ma io penso che questa sarà la sfida principale come intellettuali, artisti, scrittori, dovremmo far parte di questo nuovo processo, cercare di capire, di produrre nuove idee per il nostro mondo che è in bancarotta e per un continente intero che ha bisogno di cambiamento. Riflettendo sull'idea di che cosa può fare l'Occidente per aiutarci, vorrei adottare un approccio compassionevole. Binia Vanga ha detto quello che doveva detto, era per questo che ridevamo, ha detto quel che doveva dire, quindi cerchiamo di vederla in modo diverso. Se si vuole creare uno spazio all'interno della nostra vita umana, personale, per permettere anche il cambiamento, senza cercare di essere paternalistici, cioè cercando di evitare quest'idea del grande, salvatore che atterra col paracadute sul paese per aiutarci. Questa è una cosa che non ci va più, non ci va più questo approccio, è un approccio sminuente. È vergognoso nei confronti degli esseri umani continuamente dover giungere a patti con l'umanità da questo punto di vista. Siete qui, a prescindere da quello che siete, avete bisogno del nostro aiuto. Io non penso che questo sia vero. Vogliamo avere la possibilità di conoscervi meglio come esseri umani, esplorare insieme le preoccupazioni che ci accomunano. C'è tanto che ci accomunano in una situazione in cui non c'è più spazio per incontrarsi gli uni con gli altri come esseri umani, come persone che si trovano di fronte a delle difficoltà come voi. Francamente noi possiamo dare molto aiuto in questo momento sulla base della nostra esperienza. Possiamo dare tanto supporto, tanta esperienza. E come si può dare questo aiuto? Ci chiedete. Forse aprendo uno spazio nel cuore per l'ascolto, a conoscere l'altro, l'altra persona che vive le stesse difficoltà vostre. Qual è la previsione politica? Probabilmente sarà necessario presto cominciare a studiare il mandarino. Su questo non c'è dubbio. Io sono dispostissima. Dobbiamo considerare anche l'oceano indiano. C'è tanto che sta avvenendo nell'oceano indiano. È un croggiuolo di influenze, di situazioni, soprattutto la parte dell'Africa orientale che svolge un ruolo molto importante nell'ambito dell'oceano indiano. C'è moltissima concorrenza tra la Cina e l'India e tutte le nazioni del Medio Oriente riguardo al controllo dello spazio dell'oceano indiano. Ecco, questa regione va contenuta d'occhio per vedere che cosa emergerà. penso che le risposte di Biniavanca e di Yvonne siano state più che sufficienti. hanno fatto osservazioni molto interessanti, quindi non mi resta molto da aggiungere. Forse c'è un punto che potrei sottolineare. È che se si vuole aiutare qualcuno, si può cercare, lo si può fare anche dal punto di vista intellettuale, anche dal punto di vista del mostrare un minimo livello di compassione. Io voglio ritornare sulla questione della contestualizzazione, contestualizzazione dell'Asia, dell'Africa e di tante realtà più locali. A volte sembra che l'altro abbia bisogno di aiuto. Molto spesso siamo noi ad avere bisogno di aiuto. Siamo noi e abbiamo diciamo un offuscamento della vista. C'è un fraintendimento della realtà di fondo. Abbiamo l'impressione che la nostra presenza possa essere di aiuto enorme, ma in effetti saremo noi a trarre beneficio dall'aiuto che vogliamo dare. Quando le persone che hanno meno di noi ci danno la possibilità di imparare l'umiltà. Quando le persone hanno di più di noi ci danno la possibilità di imparare la dignità. E sono tutti questi valori che io chiamerei universali, valori universali, che come esseri umani dobbiamo essere disposti a imparare. Ci sono cose sottoprodotti di queste scelte, ma quello che avviene nel mondo materiale non è la cosa più importante. È quello che succede nel mondo immateriale rappresenta davvero l'essenza di tutto. Cerchiamo di collaborare allora. Ho una domanda molto semplice. Penso che il dibattito sia stato davvero interessante e vorrei ringraziarvi tutti. La mia domanda da un background europeo. Ho trovato interessante l'aspetto della cultura e la relazione tra l'Europa e l'Africa e la questione della migrazione. La mia domanda riguarda l'Africa, perché abbiamo menzionato questo desiderio dell'Africa unita, unificata. E mi chiedo, vediamo chiaramente l'immigrazione, ma la vediamo anche all'interno dell'Africa. Vediamo dei paesi che non consentono ai fratelli vicini, ai paesi vicini, di fare entrare i loro emigrati. E quindi cosa potete dire al riguardo? Posso unirmi alla domanda? Sì. Grazie. Vi ringrazio tutti. Volevo fare una domanda riguardo alla diffusione della vostra arte e della vostra cultura tra il popolo. Volevo chiedere in che lingua vengono pubblicati gli scritti, in che lingua vengono diffusi, se anche la base ha accesso a questa ricchezza culturale e se c'è una sollecitazione, grazie alla vostra arte, per promuovere un cambiamento, una crescita del popolo africano. Grazie. Buongiorno. Credo che lo scopo quando creo qualcosa non è cambiare le persone, ma quando le opere hanno successo e diventano parte della cultura e diventano parte della descrizione di come viviamo la nostra vita. Non c'è un rapporto diretto. Alcuni, sì, hanno questa intenzione di portare al cambiamento, alla trasformazione. Io vorrei esplorare delle questioni e quindi parlare di quello che accade e trovare un senso a ciò che accade per me e anche per gli altri. Ma se io sono in grado di esplorare queste cose in profondità, io posso scoprire delle cose per me e spero di aiutare anche gli altri, che magari possono anche imparare da questo, possono trovare interessante ciò che io ho scoperto. Quindi non vi è questo programma consapevole di scrivere per cambiare, per aiutare le persone a cambiare. Non credo sia la mia vocazione, ma questo può essere una conseguenza naturale. E poi, per quanto riguarda l'Europa, cosa può fare l'Europa? Il fatto che questa domanda venga posta, ma nessuno deve aiutare gli altri, perché ogni nazione vive chiaramente sulla base del proprio interesse. Noi chiaramente abbiamo una civiltà sofisticata di molte migliaia di anni, ma il nostro problema è che c'è stata un'espropriazione delle risorse africane da parte degli europei e in un certo senso questo fa parte del problema. Quindi la questione non è appunto questo aiuto dall'esterno, abbiamo avuto dei leader terribili. Se la Nigeria, ad esempio, sarà in grado di funzionare bene, altrimenti sarà distrutta. E se saremo distrutti, le persone che compongono questa entità che si chiama Nigeria avranno probabilmente una vita più lunga della Nigeria stessa e qualunque cosa ne risulterà sarà migliore di ciò che abbiamo oggi. Si è parlato della turbolenza, ma dalla turbolenza viene la trasformazione. Quindi questo è l'aspetto che volevo sottolineare. Si promuove il caos credendo che il caos può condurre alla conoscenza di sé e alla trasformazione. E quindi credo che questo debba essere anche il rapporto con l'esterno. Non facciamo queste cose in maniera consapevole, ma il nostro lavoro può condurre alla trasformazione. La domanda che riguarda le nazioni africane, il rapporto per quanto riguarda gli immigrati è molto interessante. I confini per me sono importanti soltanto per lo Stato, purché abbiano un significato politico o economico. In altre parole, i confini sono creati dal colonialismo e non hanno interrotto le interazioni tra le comunità, anche se queste comunità sono state tagliate fuori. E questo vale per l'Africa, per il Kenya e anche nei rapporti fra il Kenya e la Tanzania, quando parliamo delle comunità dei Masai e vale per le comunità attorno al Lago Vittoria. Il problema è quando bisogna andare in aeroporto e andare da qualche altra parte. Per quanto riguarda i confini fisici e la lotta per le risorse a cui sono interessati i governi, non credo che sia un problema, perché le persone, nonostante i confini, comunque hanno continuato a viaggiare e a andarsene. Allora, questo tipo di trattamento è quando lo Stato prende il controllo. Non sono le persone, ma lo Stato, che segue il proprio interesse. Per quanto riguarda la lingua e le lingue in cui scriviamo, avendo parlato con Biniavanga l'altro giorno, dicevamo, lui ha fatto questo commento bizzarro, molta letteratura proviene dall'Africa e sembra che si chiede il permesso all'Occidente. E ho trovato interessante questo aspetto. Anche nella comunità degli scrittori, quando parliamo tra di noi, quando si scrive come volete che gli altri reagiscono? Una delle reazioni principali è questo si adatta alla mia realtà. Quindi questa realtà in effetti consente questa comunicazione attraverso l'inglese, attraverso il linguaggio. Non si può andare in Kenya un solo giorno senza incontrare tante lingue diverse. Questa è una realtà. Quindi la mia responsabilità come scrittore è catturare queste realtà nella lingua in cui si verificano. È molto semplice. Grazie. C'è una persona che mi aveva fatto una domanda, ma non ho ancora risposto. Ma non ho dimenticato di doverle rispondere. Lei mi ha chiesto dove è possibile trovare qualcosa in più su questi miei lavori. Ecco, per rimanere in contatto con me c'è un sito web. Vi è una serie di foto disponibili al mio sito web e molte altre saranno pubblicate. Lavori monocromatici, ma anche illustrazioni. Semplicemente si può mettere in contatto con me al sito web attraverso la posta elettronica, Facebook o Twitter e possiamo continuare a conversare in questo modo. Lei mi aveva anche chiesto perché le foto sono realizzate in questo modo. Ci sono vari modi per spiegarlo. Uno dei modi è... Io faccio molto sulla base dei miei sentimenti e personalmente sento che c'è qualcosa al di sopra di me che mi spinge, che mi spinge in certe direzioni. E questo qualcosa nel mio libro, che sarà pubblicato il prossimo anno, l'ho chiamato La Forza Creativa. La Forza Creativa è ciò che mi guida, è ciò che mi dice qualcosa. Per quanto mi riguarda mi vedo più come il veicolo di qualcosa, il messaggero piuttosto che la cosa che invia è il messaggio. E scoprendo l'arte si scopre proprio esattamente come siamo. Dovevo sapere dall'organizzazione se ci rimangono tempo per almeno un paio di domande, però non vedo nessuno. Quindi credo di sì. Buongiorno. Gli scrittori cubani spesso si lamentano che vengono poste loro domande politiche e non letterare. Volevo sapere se per gli scrittori africani sta un po' succedendo la stessa cosa e qual è il loro rapporto con la letteratura dei paesi africani musulmani. Se c'è una forte separazione o se sentono qualcosa che li unisce. Salve. La mia domanda in parte ha già trovato risposta nei passaggi di prima, ma volevo sapere se come continente africano potete fare qualcosa, un intervento o qualcosa per aiutarci a tirarci fuori dal casino nel quale ci siamo cacciati in Europa. Grazie. 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 Vorrei rispondere alla domanda sul nostro rapporto con la letteratura, le cosiddette divisioni, divisioni, la letteratura dell'Africa subsahariana e del Nord Africa per così dire. Si può dire che è una questione di lingua, sì ci sono delle divisioni, soprattutto la lingua perché molti scrittori nordafricani scrivono in arabo, però una volta tradotto il tutto la divisione come quella fra la letteratura nigeriana e quella italiana con il mio lavoro è pubblicato in Italia solo perché è stato tradotto in italiano e lo stesso per l'Egitto, ovviamente quello che scrivo in Egitto deve essere tradotto, una volta tradotto non ci sono più queste divisioni. Grazie. Grazie. Sì, lo scrittore può essere anche profetico, ma come scrittore io penso che se mi siedo e voglio scrivere un lavoro profetico non mi viene fuori niente e alla fine si gira sempre intorno alla stessa cosa. Bisogna cercare di rispondere alle cose nella maniera giusta e se ci si riesce, allora forse si riesce a uscire fuori da una certa situazione. Chissà, fondamentalmente dobbiamo cercare di aiutarci da soli, è certo una volta che si aiuta a se stesso forse si riesce ad aiutare gli altri, ma certo io come posso scrivere un libro sulla situazione politica e sociale italiana? Vorrei sollevare la questione degli scrittori cubani. Sì, sì, effettivamente è una di quelle battute che molto spesso si sentono perché si partecipa alle tavole rotonde, sul futuro magari di chissà cosa. Del mondo francofono, quindi abbiamo tutta una lista di questioni africani, all'improvviso ci vengono poste delle domande e ci dicono grazie per aver parlato del suo libro. Che cosa pensa del problema della mutilazione genitale femminile in Africa? Ci sono dei siti addirittura dove si può comprare un clitoride di una donna africana da trapiantare, cioè delle cose allucinanti. Comunque, seriamente, io penso che non mi ricordo una scrittrice francese che ha scritto un libro che parlava di mondo letterario come mondo geopolitico, come un grande mercato. Ovviamente diceva che Parigi era al centro, ma lei era francese, quindi non sono sicura che sia effettivamente così. Gli americani non sanno leggere perché gli americani non sanno scrivere bene, meglio quello che si fa in Europa, siamo noi la patria della vera letteratura. Comunque, a prescindere da tutto questo, là sono state scritte delle cose incredibili in Africa. Io so che fra 50, 60, 70 anni i romanzi aiuteranno molto la gente a capire come è andato il mondo. Non è mai successo che il mercato ci abbia fatto capire le cose meglio. Non siamo noi quelli che decidiamo e come cittadini dobbiamo cercare di fare qualche cosa nel nostro paese e io sono sempre felice di poterlo fare. Ma criticamente parlando, la crisi è sempre presente. Ovviamente si parla di quello che scriviamo, della nostra africanità, come i nostri libri parlano agli immigrati che vivono in Italia. Quindi ci sono tante confusioni, tanti fattori insieme. Questo mondo postcoloniale, eccetera, eccetera, ha prodotto delle cose davvero incredibili, letteratura, la lingua negli ultimi 30-40 anni. In tanti casi ovviamente questo aspetto viene tralasciato e io penso che la questione sia un riflesso anche di questo aspetto. Bisogna sempre spiegare il contesto perché non si hanno tutti i lettori a portata di mano e quindi alle volte bisogna prendere delle scocciatoie per riuscire a parlare di determinati problemi che si ripresentano sempre, che sono poi quelli più importanti. Abbiamo finito il tempo, ahimè, dobbiamo ringraziare tutti i nostri artisti di essere stati con noi. Grazie a Binyavanga Wanaina, Eoma Wanchuku, Katrina Nyango, Igoni Barrett, Billy Kaora, Olujida De Baio Begone e Paul Sika. Grazie, grazie anche a voi di essere state così attenti.